bentornati ai miei video dedicati a youtube dopo aver visto nel video precedente come creare una playlist vediamo di capire come organizzare un percorso didattico grazie alla scheda finale quindi faccio personalizza canale vado nella gestione dei video vado a prendere il primo video della lista e faccio modifica vado sul pulsante schermata finale premo su modifica e mi appare la finestra per la gestione della parte finale del video dove è possibile inserire una serie di elementi in questa zona gli elementi possono essere inseriti in questa zona l'anteprima di quello che stiamo per fare e qui in basso la timeline aggiungiamo come elementi del video la playlist ed ecco che nella timeline vediamo che è stato aggiunto questo elemento facciamo scorrere la durata di questo elemento facciamo scorrere lo selezioniamo all'interno della timeline e lo facciamo scorrere fino a questa parte finale perché il nostro video aveva già una sua parte finale infatti se scorriamo qui vediamo quello che succede questo punto portiamo questo elemento qui aggiungo iscriviti al canale anche questo lo facciamo comparire alla fine e aggiungo ancora il suggerimento a visionare un altro canale mettiamo un messaggio portiamo questo elemento qui lo trasciniamo qua e portiamo questo elemento qui faccio usata guardo il video sul canale lo guardo solo nella parte finale perché quella che mi interessa ecco apparire gli elementi della personalizzazione iscriviti a questo canale visiona anche il canale di Antonio Marini e la playlist ripeto l'operazione sul secondo video e per poter riproporre esattamente ciò che avevo fatto in precedenza importa da un altro video scelgo il video 1 e mi viene riproposto esattamente quello del video precedente quello del video precedente in realtà preferisco ottimizzarlo un po' faccio saldo ripeto questo per tutti i video questo tutorial finisce qui grazie per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti